A Pesaro non arriveranno turisti per Natale e Capodanno, o perlomeno quelli che soggiorneranno in città saranno pochi, tanto che alcuni alberghi annuali hanno deciso di chiudere in anticipo, viste le scarse prenotazioni. In aggiunta, le nuove strette sanitarie sui viaggi annunciate dal governo rischiano di incidere non poco sull'industria del turismo. Per entrare negli alberghi sarà necessario presentare il Green Pass base, ottenibile anche semplicemente con un tampone molecolare. Nessuna certificazione verde rafforzata dunque, ma il caos generato dal susseguirsi di decreti e variazioni ha scoraggiato e non poco le partenze. Molti nel dubbio opteranno per rimanere a casa durante le feste, prova ne è che i telefoni degli alberghi suonano pochissimo. Per quest'anno le presenze sono basse, noi avevamo avuto un inizio nel mese di ottobre dove sembrava che ci fossero delle feste in maniera positiva, poi invece vuoi soprattutto l'aumento dei casi e l'introduzione delle nuove normative, queste prenotazioni si sono fermate. Poi con l'ultimo decreto sul Green Pass rafforzato abbiamo visto un notevole calo, se non un fermo, proprio delle prenotazioni. È anche vero che ormai i nostri alberghi sono dal 2020, che sono pronti, fanno investimenti e affinano le procedure per la sicurezza, quindi siamo preparati a gestire anche questo periodo. Il turista straniero a Pesaro c'è stato un enorme calo, quindi parliamo di una percentuale molto bassa. Ovviamente tutto concorre a rallentare le presenze. Il problema, secondo me, bisognerebbe riflettere un attimo, che non accada come nei primi lockdown, nel primo periodo, dove gli alberghi comunque rimanendo aperti perché considerati un servizio essenziale, poi al lato pratico viene meno la domanda. Non smettere di aiutare il settore degli alberghi, perché di questo abbiamo bisogno in questo momento, dove pur avendo fatto investimenti, pur sostenendo i costi fissi delle nostre strutture, vediamo venire meno le presenze. Uno dei pochi a rimanere aperto a Pesaro è il conte Alessandro Marcucci Pinoli, titolare di tre alberghi di lusso in città, dove però le prenotazioni non sono ancora arrivate. Quest'anno è andata molto meglio e finora continua ad andare molto meglio. Certo, certi dicono che del rimbalzo del gatto morto, perché andare meglio di un anno dove abbiamo fatto zero, è facile, però insomma non mi lamento finora. Per il futuro io penso che più o meno avremo le presenze di due anni fa, non dell'anno scorso che non c'era nessuno, però di due anni fa io penso di averle. Io sono aperto però di solito, è da due anni che non prenota nessuno per tempo. Ormai si prenotano tutti il last minute, l'ultimo minuto, perché non si sa mai, quindi la gente ha paura di prenotare per tempo. Prenota un giorno o due prima, però penso che verranno, insomma, anche perché per il periodo di Natale di solito vengono tutti gli anni, da anni, sono clienti affezionati ai miei alberghi, ex pesaresi, pesaresi che vivono fuori, che tornano qui per trovare i parenti, gli amici.